Quando può vincere lo scudetto Napoli, c'è una data possibile. Il Napoli pareggia 0-0 al Maradona contro il Verona e in virtù della vittoria della Lazio con lo spezia slitta di una partita la vittoria aritmetica dello scudetto. Con questa classifica, con 14 punti sui bianco celesti, gli azzurri conquisterebbero il grande traguardo il 7 maggio con la Fiorentina in casa alla 34esima giornata. Da settimane i tifosi fanno il calcolo delle giornate che mancano per la vittoria del tricolore e dopo questa domenica il tricolore è più avvicino. Si gioca col calendario e con la classifica per l'aritmetica aspettando anche le partite che completano il turno di campionato. Napoli, il calcolo dello scudetto, quando può arrivare l'aritmetica dato che sono al momento 14 punti di vantaggio sulla Lazio. Il Napoli può trionfare a quattro partite dalla fine con altri 12 punti a disposizione. Pochi per la squadra allenata da Sarri per sognare una rimonta. Il Napoli frena dunque per lo scudetto e comunque questione di settimane. Bisogna solo aspettare. La città si prepara a festeggiare. Virgola